Nel mio intervento io presenterò alcune storie di macchine intelligenti e di robotica in Italia e farò vedere come questo settore dell'intelligenza artificiale è uno in cui la ricerca e l'industria italiana sono di eccellenza assoluta in Europa e con l'Europa nel mondo. Farò alcuni casi storici e poi parlerò invece delle più recenti realizzazioni che dalla ricerca si sono trasformate in realtà industriali, in realtà applicative per intervenire con gli strumenti di intelligenza artificiale nel mondo reale, nel mondo fisico, nelle macchine e per le persone.